dei Vigili del Fuoco di Viterbo, all'ingegnere Giuseppe Paduano, a tutti i nostri Vigili del Fuoco che stanno aiutando i terremotati. Facciamo un grande, grande applauso. Con loro la nostra preghiera che abbiamo fatto insieme al Vescovo e la nostra benedizione. Adesso lascio la parola per un saluto al cappellano dei Facchini e del Sodalizio di Santa Rosa, che è Don Alfredo. Non so dov'è ma lui mi vede. Eccolo. Vi faccio tanti auguri di buon trasporto perché davvero possiate sentire nel vostro cuore la forza di Santa Rosa. Santa Rosa era una giovane donna, ma allora già 18 anni era già una donna matura, ma forte nel cuore, anche se malata. E voi adesso porterete sulle vostre spalle tutta la responsabilità dell'amore a Santa Rosa. E vedrete che Santa Rosa vi proteggerà per tutta la vita, perché voi oggi la porterete in trionfo. E quindi allora l'augurio è per voi, per le vostre famiglie. E vorrei ringraziare Don Claudio per questa bella iniziativa e perché possiate davvero sentirvi orgogliosi di essere viterbesi e discepoli di Santa Rosa. Auguri e buon trasporto.